Ruspe in azione nel comune di Cogli al Metauro. Sono iniziati diversi giorni fa, dopo la richiesta dell'amministrazione comunale, i lavori per la pulizia dell'alveo sotto il ponte del fiume Metauro che collega le località di Calcinelli e Villanova. A seguito delle numerose segnalazioni arrivate sia alla nostra redazione ma anche al comune di Cogli al Metauro, i numerosi tronchi, ramaglie e ostacoli lungo il fiume sono stati rimossi dopo quello che si era creato nel corso delle precedenti piogge, vale a dire un vero e proprio tappo lungo il corso d'acqua. Il primo cittadino Stefano Guzzi, dopo aver inoltrato il problema alla provincia e al genio civile, si è rivolto direttamente al consorzio di Bonifica per scongiurare piene improvvise e problemi all'alveo con l'arrivo delle prossime piogge. Dallo scorso marzo-aprile ha fatto una grossa fiumana e il ponte di Calcinelli era di fatto completamente intasato da tronchi, alberi e indubbiamente ci preoccupava molto per l'arrivo dell'inverno. Noi abbiamo scritto a provincia e genio civile, anche contattati già dall'immediatezza del mese di aprile, poi maggio eccetera, poi queste competenze dalla provincia, questa riforma benedetta delle province è passata alla regione, non si capiva bene a chi riferire, a chi cercare e così via. A metà settembre, non vedendo nulla di concreto, ho pensato di chiamare personalmente il presidente del consorzio di Bonifica, il dottor Netti, che ringrazio, lo ringrazio perché è stato oltretutto gentilissimo. Io l'ho chiamato il mattino investendolo di questo problema, il pomeriggio stesso ha mandato un geometra della sua organizzazione, del consorzio di Bonifica, è venuto a visionare, già la settimana successiva hanno cominciato diciamo così a istruire le pratiche e dal lunedì hanno cominciato i lavori che stanno andando avanti celermente, ecco quindi è una cosa indubbiamente importante, però ci tengo anche a dire che c'è stato un forte interessamento diretto nostro del comune, ma non voglio contestare o meno il lavoro della provincia o del genio civile, io capisco le grandi difficoltà che oggi hanno le province, le capisco, questa riforma è lasciata a metà, le province non ci sono più, però di fatto ancora ci sono, una parte di competenza sono passate alle regioni, sia per questo che per tante situazioni si hanno grandi difficoltà ad approcciare con questo ente proprio per questa mancanza di organizzazione, altrimenti anche lì ci sono ottime persone e gente disponibilissima. Comunque in questo caso è il consorzio di verifica che porta avanti questo intervento, lo stanno attuando, credo che lo termineranno nel giro delle prossime ore, speriamo che poi non succeda un intasamento da qui a breve perché la cosa ai noi sarà assai probabile perché il fiume Metauro purtroppo è pieno di questi detriti e non viene mai pulito, questo è un altro problema, questo è un altro problema che non riguarda direttamente i comuni ma sempre gli organi superiori.